Ti capita spesso di essere triste? Prova ad immaginare un hamburger di alta qualità con ingredienti selezionati La tua birra preferita è una buona dose di musica dal vivo Un sogno? No! A Torricella Verzate tutto questo è realtà Vivi l'esperienza Il nuovo Beer Pub aspetta te e i tuoi amici in Via Emilia 2 In questi giorni non si fa altro che parlare di PM10 Lo sa bene il sindaco di Pavia, una delle città più inquinate d'Italia Che ha optato per due nuove giornate di blocco del traffico Domenica 7 e domenica 28 febbraio stop alle auto dalle ore 9 all'ora 18 su tutto il territorio comunale Ma a Voghera la situazione sembra essere molto diversa Scartato il divieto di circolazione l'ente locale ha optato per una più capillare pulizia delle strade Soluzione che non ha soddisfatto le associazioni di tutela dell'ambiente Ma a tenere banco ancora una volta sono state le dichiarazioni dell'assessore Marina Zaretti Che ha preso le distanze da alcuni comunicati dove Lega Ambiente suggeriva ai cittadini di abbassare il riscaldamento Per evitare l'innalzarsi dei livelli di PM10 Comunicati definiti allarmistici Voghera dice l'assessore è una città distante dalle problematiche di Pavia e di Milano Assessore Azzaretti come sempre le sue dichiarazioni suscitano dibattito e polemiche Qual è la sua effettiva posizione a riguardo? Premetto che trovo quantomeno curioso il fatto di essere sempre indicata a dover dare delle risposte Anche su attività che non sono di mia competenza ma io rispondo volentieri Il PM10 ieri è sceso a 39 microgrammi per metro cubo Il limite d'attenzione è a 50 microgrammi per metro cubo Deve essere un limite superato come è superato in tante città metropolitane Per un numero consecutivo di giorni Perché si renda necessario correre a dei provvedimenti Va detto che la nostra città non ha mai avuto o non è mai stato verificata nella nostra città Una situazione di criticità così importante per cui correre a dei provvedimenti Per quanto riguarda provvedimenti preventivi Io credo che se è il caso di parlarne Legambiente lo può fare con l'assessore competente Che assolutamente credo sia più che disponibile Come proprio l'altro giorno hanno realizzato un incontro Per parlare di eventuali criticità Che comunque oggi la nostra città non sta vivendo E non ritengo opportuno che i nostri cittadini Siano portati anche a sentimenti di allarme Quando non è il caso Anche perché abbassare il riscaldamento può portare ad ammalarsi Non credo che sia necessario arrivare a indicazioni che possono avere dello strumentale Chiara De Paoli, presidente di Legambiente Voghera Spieghiamo in parole semplici Che cos'è il PM10? Il PM10 sono particelle presenti in atmosfera Polveri derivanti da attività umane Incendi, combustibili come benzina, gasolio Quindi per far ad esempio funzionare le automobili O ad esempio per i riscaldamenti delle case O nell'industria Qual è il valore limite di PM10 da non superare? Qual è la media giornaliera che l'ARPA registra a Voghera? PM10 ha un'unità di misura che è il microgrammo metro cubo La soglia limite è il 50 microgrammi metro cubo È stata indicata dall'ARPA Ma a Voghera nel 2015 ho qui i dati Diciamo che in tutto l'anno la media è stata intorno al 25 Quest'anno il valore è sicuramente più alto Nel senso che nel solo mese di gennaio Si è sforato questo limite del 50 microgrammi metro cubo Più volte E per cui la media è molto più alta del 25 Sarà intorno al 50 A Voghera il Comune ha optato per una più capillare pulizia delle strade Può essere effettivamente una buona soluzione? Non saprei dire se il lavaggio di strade è una buona soluzione Perché non ho dati per dire che sia buona o cattiva Non è uno dei principali interventi previsti nelle altre città Come Pavia o come Milano So che a Milano si fa anche il lavaggio strade più accurato O comunque più ampio In un raggio più ampio Però è una delle ultime indicazioni del Comune Quale sarebbe la soluzione più utile secondo lega ambiente? Sicuramente nel breve periodo Togliere il traffico veicolare E il poter abbassare il riscaldamento Quindi fare un'ordinanza di abbassare i riscaldamenti Soprattutto negli uffici pubblici Scuole dove in questo periodo siamo andati a verificare Ci sono scuole con temperature alte Sicuramente più alte del necessario E anche edifici pubblici Il blocco del traffico Quindi togliere il traffico dei veicoli Dal centro per qualche tempo Una limitazione degli ingressi Per i motori Euro 3 o inferiori Euro 2, Euro 1 E anche il lavaggio di strade Perché no? Se si ritiene necessario E può essere una cosa certo È a un costo Le altre soluzioni no No per la collettività Certo chi ha un'auto Un motore Un'auto con motore Euro 3 o inferiore Dovrà adeguarsi a queste norme L'assessore Zaretti ha sconsigliato ai cittadini Di spegnere i riscaldamenti Per evitare il rischio di prendersi l'influenza Cosa pensa di questa dichiarazione? Sicuramente la vedo come una dichiarazione Fatta così di pancia Ecco non sicuramente ragionata Da chi sono misurati i valori di PM10 Nella nostra città? Dall'ARPA a Lombardia L'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente La stazione fissa dell'ARPA si trova in via Pozzoni Perché secondo Lega Ambiente si è scelto di installarla in una posizione così decentrata? Ha scelto l'ARPA per un motivo geografico Ecco non è stata decisa da nessuno Ad esempio dalla nostra amministrazione O amministrazioni precedenti È stata messa lì per un motivo geografico Certo non si può prendere quei dati Della centralina di via Pozzoni Come è stato detto Decentrata e in zona assolutamente senza traffico Per fare riferimento al centro città Se là i valori sono registrati di un certo tipo In centro sarebbe bene poter fare dei rilevamenti Con ad esempio una centralina mobile L'ARPA è dotata di una centralina mobile Magari il Comune potrebbe anche fare richiesta di installarla per un breve periodo E vedere per esempio in via Cavour Unico accesso a Piazza Duomo Quali possono essere i valori registrati Nelle ultime ore contro l'amministrazione Barbieri Si è scagliato anche Pierezio Ghezzi Del Partito Democratico Che ha fatto notare come la giunta di centrodestra Non abbia ancora considerato il PM10 Un rischio per la salute dei vogheresi La maggioranza dice Ha negato lo stato di pericolo E dichiara che vi è stata negli anni una blanda criticità E che Voghera è una città a posto Secondo il candidato sindaco di centrosinistra Il 2016 potrebbe invece rivelarsi L'anno di massimo inquinamento della storia cittadina Porta la tua azienda in questo video JAPTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti In tempi rapidissimi Chiama ora al numero 320 22 45 117 O scrivi a spot.japtv.it Per valutare senza impegno tutte le nostre offerte